Sono Raji Baddande, direttore artistico e amministrativo del Teatro Chiabrera, fondatore di Slow Machine e oggi presentiamo lo spettacolo Aljaim, uno spettacolo che indaga e parte da delle esperienze personali, le esperienze di immigrazione della Libia, ma tratto anche, prendendo spunto dall'idea dell'inferno di Dante, in uno spettacolo immersivo e quindi itinerante anche, dove viene mescolato video, del video live, gli elementi anche personali, di storie personali, in un lavoro che abbiamo, come dire, in una coscrittura, anche con una ricercatrice di scienze umane e antropologia, Viola Castellano. Grazie e buon lavoro. Grazie.